Ciao a tutti i questions e benvenuti in questo nuovo video Allora, oggi andiamo a fare, se non erro, l'ottavo giorno del nostro calendario dell'avvento Poi magari mi posso anche sbagliare, oramai ho perso quasi il conto Penso sia l'ottavo giorno E oggi, come forse avrete intuito, perché comunque non si può intuire proprio benissimo Io sono alla capanna dell'eremita e oggi andremo a comprare un po' nicalese Allora, vediamoli tutti, con descrizioni un po' brevi comunque Qua abbiamo un sauro bruciato, che non mi piace sinceramente Poi un palomino, che è veramente carino, però io sono innamorata di un altro Poi questo che è, penso, un sauro biondo, ma non è che mi faccia impazzire comunque Poi il morello, che è carinissimo, però proprio non ce lo vedo il morello su questa razza E il grigio è carino, però ha qualcosa che non mi convince Io mi sono oramai innamorata di questo Che non so che manto sia, scrivetelo giù nei commenti, ma io proprio non lo so Allora, andremo a cambiare la criniera E andrò a fare le trecce Le trecce con la coda e la criniera Cioè, perché comunque è carinissimo Ho già messo il sesso, quindi il genere e l'età Quindi eterno e giunta E la andrò a chiamare Cherry Cherry La voglio chiamare Cherry Bomb Però non c'è Bomb, perciò Cherry e basta Cherry Perché mi ricorda un po' una ciliegia, sinceramente E niente ragazzi, compriamola Allora, tre Due Uno Eccola lì, la mia Cherry Ciao tesoro Ciao È troppo carina ragazzi Comunque tornerò quasi sicuramente La mandiamo nella stalla Comunque io la Quasi sicuramente Nell'ultimo video continuerò a cavalcare Lei, quindi Ali Perché oramai me ne sono innamorata Comunque andiamo a vedere il nostro Adorabile Pony Gallese Pony Gallese Che veramente Poi tra l'altro io ragazzi Sono entrata nel gioco Quando praticamente ero Quando praticamente erano usciti i Pony Gallese aggiornati Io ne volevo così tanto uno Però Poi ho scoperto che Cioè Mi avevano dato 100 Star Coins Che naturalmente non bastavano Per avere un Pony Gallese Che costa 800 Scusami Ali Aspettate perché questo outfit Mi garba troppo ragazzi Devo prendere tutto da Ali e E proprio Metterlo Alla signorina nuova Cherry Che è vero Non ha il box Allora ragazzi Io sinceramente Cherry La vorrei mettere Al posto Di Milk Chocolate Ma perché Secondo voi Non perché Milk Chocolate Non mi piaccia più Ma perché Milk Chocolate È a livello 15 Quindi Cioè Quando Lo monto È Non lo so Cioè lo posso anche montare Per fare l'emstit Però Di solito io Quando non ho nulla da fare Faccio le gare E Oddio L'ho vista ora Perché stavo guardando Da un'altra parte Cherry E Praticamente Milk Chocolate È a livello 15 Quindi non ha senso Tenerlo lì Vabbè Ho fatto un ragionamento Da schifo Però vabbè Ciao Guardatela No L'adoro È minuscola poi Oddio È così carina Allora Mettiamo lì Le varie cosettine Allora Vediamo se ha tutto Sì Perché la coda Non aveva nulla Guardate Che carina No Vabbè ragazzi No L'adoro No ragazzi Adoro No Adoro Troppo Ora magari Rosa ci sta anche Un pochino male Con quel manto Però Ti ammichiasce tanto Come outfit Quindi No No ci sta benissimo Ragazzi No Le treccine Sono adorabili Troppo Ok Lo adoro Canter Bellissimo Canter Canter esteso Carino Pianoppo veloce Stupendo Vediamo la fermata Bellissima L'adoro L'adoro Molto bella Mamma mia Quanto è piccolo Vi immaginate Montare un panicalese E poi Montare un percheron Cioè Mamma mia E poi Allora Vediamo L'impennata No vabbè L'adoro Bellissima Ragazzi Veramente L'adoro Bellissima E la sua Mossa speciale È Praticamente Per farla Bisogna Che il cavallo Stia fermo E bisogna Bisogna lavare Spacciatrice Guardate che Bella mossa Che vi esegue Proprio A me piace Tanto Perché È veramente Carinissima L'adoro E Niente Ragazzi Spero che Questo video Dove ho comprato Cherry Vi sia Piaciuto E nulla Noi ci vediamo Al prossimo Ciao Questrians Bite L'orio Burуют Grazie a tutti.